Crolla la curva dei contagi, cade anche una delle ultime restrizioni rimaste ancora in piedi per il contenimento dell'emergenza Covid. Da oggi, lunedì 28 giugno, nelle zone bianche, quindi anche in Puglia, viene meno l'obbligo di indossare la mascherina protettiva all'aperto. Questa la decisione del Governo alla luce del netto miglioramento della situazione pandemica in Italia, con le regioni che attualmente si trovano tutte in fascia di rischio bassa, ed è buoni risultati conseguiti finora dalla campagna vaccinale, che ormai vicina al traguardo delle 50 milioni di somministrazioni effettuate a livello nazionale. Dunque, a partire da oggi, stop ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nelle piazze, in strada e in qualunque altro spazio all'aperto. Ma quello alla mascherina non è ancora un addio. Resta l'obbligo per tutti di portarsela sempre dietro ed indossarla nei luoghi chiusi, qualora non sia possibile mantenere il distanziamento all'aperto e in generale in qualunque situazione di potenziale rischio di contagio. La nuova ordinanza, firmata dal Ministro della Salute Roberto Speranza, sarà pienamente recepita dalla Regione Puglia, a differenza di quanto avvenuto in Campania e nella città Umbra di Norcia, dove l'obbligo di mascherine è stato invece prorogato. La conferma arriva dall'assessore regionale Pierluigi Lopalco, che ha sottolineato che in Puglia non ci saranno ulteriori restrizioni rispetto a quelle previste dal governo. Nella regione la circolazione virale è simile al resto d'Italia, ha sottolineato Lopalco, per cui non c'è motivo di divergere dalle indicazioni nazionali. Questo nonostante le preoccupazioni per la diffusione della variante Delta, che in terra pugliese ha già fatto registrare numerosi casi. Ma l'attenzione resta comunque alta con l'obiettivo di spegnere ogni possibile focolaio del nuovo ceppo del virus, che si presenta anche più contagioso di tutti quelli che lo hanno preceduto.